La soluzione equivale il risultato a un'eventuale presa di governo oppure no? Questo non dovreste chiederlo a me, non lo so, immagino che sia, comunque non sia una cosa che cementa l'alleanza occhio e croce, diciamo come minimo. Poi dopo io mi auguro che comunque si trovi la strada per ridurre al massimo l'impatto di questa faccenda, però certo è una cosa impattante, ne parliamo da giorni, quindi non è che c'è molto da aggiungere. La soluzione potrebbe essere quella del voto in aula dopo il Tribunale di Milano? Guardate qui entriamo in un meccanismo che francamente non mi è particolarmente familiare e ne ho approfondito, quindi forse queste domande le dovreste fare ai secretari di partito, non a me.